Ciao a tutti, bentornati sul nostro canale Oggi vi faremo vedere tutti i passaggi per fare il salto avanti Per fare il salto avanti è molto importante andare in alto Per questo il primo passaggio è fare un pennello baluato con le braccia attaccate Ok, vai, fateci vedere un bel pennello, aspetta Nelly Nel pennello stiamo belli duri, vero? Con le gambe chiuse e il sedere stretto, balle dure Sempre per andare in alto, nel secondo passaggio abbiamo messo due materassi alti Per farci la capiola sopra e arrivando giù, sopra la buca In piedi Ok, va rotolata bene, la rifate? Adesso iniziamo a impostare il salto avanti Facendo un pennello alto come prima e la preparazione Preparazione è salto avanti Cosa si fa nella preparazione? Le braccia? Oddio Le braccia vanno giù velocissime Mi calcio il sedere e arrivo di schiena Per imparare a calciarsi il sedere ci appoggiamo su qualcosa Noi usiamo il cavallo E dobbiamo spingere e calciarci forte il sedere Ok Adesso possiamo iniziare a fare il salto avanti Ricordandoci di andare in alto nella battuta E non in avanti Bene Nelly mi fai vedere un salto avanti sbagliato Quindi Ti butti in avanti quando batti Sì Ok Vai Ele fammene vedere uno sbagliato Esatto Ci si storge tutti e si va molto lontani E si va in ospedale E si va in ospedale Invece batto e i piedi devono arrivare vicini Dopo aver imparato il salto avanti Tutti i piedi devono arrivare Sul tavolato Per terra Sul tumbling Sulla pedana Sì Sulla pedana Ok Ne facciamo vedere uno sul tumbling Sì Via Speriamo che questo tutorial vi sia piaciuto A 150 like Faremo il prossimo Ciao a tutti Ciao a tutti Ci vediamo nel prossimo video A te non è piaciuto A te non è piaciuto